Musica Incendio alla ferrette di Cattolica ha distrutto un megaiotto da 10 milioni di euro Ordoglio anche delle Marche per la morte del Presidente del Parlamento Europeo Domani la commemorazione in Consiglio regionale Mentre a Pesaro, Bandiera Mezzasta, Sassoli presenziò all'inaugurazione della Sonosfera e fece più volte tappa a fan Sanitari, forze dell'ordine, imprenditori e centinaia di associazioni e comitati Popoli uniti in un grande evento a Roma contro le scelte del governo Draghi per difendere i diritti umani e la Costituzione La variante Omicron e il Green Passer rafforzato affossano il turismo A Pesaro pochi alberghi sono aperti e fioccano disdette Il Contepino li parla di tragiche conseguenze per il settore L'Alexander Museum è vuoto, non era mai accaduto nella storia del suo hotel È dedicato a Urbino il nuovo calendario della Midor presentato ieri nella città ducale Culla del Rinascimento Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia Apriamo il nostro telegiornale con l'incendio scoppiato questa mattina poco dopo le 9.30 Nella cantiere della Ferretti Yacht di Cattolica Una decina di operai hanno tentato di spegnere le fiamme divampate in uno yacht di 30 metri Praticamente ultimato e dal valore di mercato di circa 10 milioni di euro Per fortuna nessuno è rimasto ferito o intossicato In azione 5 squadre dei Vigili del Fuoco e 11 pompieri Sono ancora da quantificare i danni provocati anche a due scafi vicini rimasti danneggiati E le cause del rogo Al momento l'ipotesi più plausibile è quella di un cortocircuito Sul posto anche i carabinieri e i tecnici di ARPA Chiamati per eseguire i rilievi ambientali Infatti in un primo momento l'incendio aveva dato origine a una densa colonna di fumo nero Il 15 gennaio a Roma si terrà un evento internazionale per protestare in modo pacifico Contro gli obblighi e le imposizioni del governo ritenuti lesivi della dignità umana E dei diritti sanciti dalla Costituzione Creeremo un muro, ci ha spiegato il promotore, per chiedere verità e libertà Se le formiche si mettono d'accordo possono spostare un elefante È uno dei noti proverbi che compare sulla pagina Facebook Verità e libertà, il coordinamento che raggruppa oltre 40 sigle italiane E che si sta battendo per difendere la Costituzione in un solo Contrari agli obblighi e alle norme imposte dal governo Hanno deciso di organizzare a Roma per il prossimo 15 gennaio Una manifestazione internazionale Sarà un evento pacifico, in stretta collaborazione con le forze dell'ordine Ma con un chiaro obiettivo, quello di chiedere il rispetto dei diritti umani Ce ne parla Angelo Di Stefano, presidente dell'Associazione Le Partite IVA d'Italia Promotore dell'iniziativa e coordinatore di verità e libertà Vogliamo unire popolo, ha precisato Di Stefano Perché è il momento di ottenere giustizia Contestiamo la narrazione di ciò che è legato all'emergenza sanitaria Non si può dire al popolo italiano che l'economia sta andando avanti Quando stanno chiudendo tante aziende Intere filiere stanno soffrendo Siamo alla chiusura E si parla di più 6% Si sta rinchiudendo la gente in casa Abbiamo emergenze di persone malate che non riescono a uscire dalle isole Per venire nel nord, in Emilia Romagna o in Lombardia A curarsi perché i traghetti o i aerei non gli danno la possibilità di salire Se non sono bambini vaccinati o non hanno il Green Pass Questa è la situazione Non possiamo permettere questo, ha proseguito Angelo Perché significa togliere la libertà alla gente E si sta andando contro ogni principio sancito nella nostra Costituzione Siamo stanchi e non vogliamo assolutamente che questo continui Allora tutte queste sigle che hanno aderito a questa iniziativa E tante altre che parteciperanno Ne abbiamo contate circa 120 Ci riuniremo a Roma per creare un muro Un muro che vuole verità e soprattutto libertà E l'appuntamento sarà in via all'Oceano Atlantico in zona Eur Alle ore 14 ma il coordinamento invita a seguire la pagina Facebook ufficiale Dove verranno comunicati eventuali aggiornamenti Ci sono pompieri, vigili del fuoco Ci sono carabinieri C'è gente dell'esercito, professionisti, imprenditori C'è tutto il popolo italiano Ogni tipo di categoria Perché questa discriminazione, questo atteggiamento Questa crisi economica sta colpendo tutto il popolo Abbiamo gente che fa fatica ad arrivare a fine mese Gente sospesa Ricattati perché se non adempiono a determinate Alla vaccinazione o altro Tra l'altro Giustamente confusa Perché vorrei ricordare che nonostante la gente si fosse vaccinata Ora viene richiamata a una terza Poi a una quarta dose Cioè la narrazione non va bene La narrazione non è sincera Non è leale Cambia continuamente Ed eppure sarà pure un sacrosanto diritto di queste persone Aver paura E invece cosa facciamo? Chiede Di Stefano Le obblighiamo togliendo loro i diritti Non è questo Ha proseguito il modo di combattere una pandemia gestita Poi in malo modo E adesso, ha concluso il promotore Ne paghiamo le conseguenze a livello economico, sociale e politico E anche chi è vaccinato è contrario a vedere uno scempio tale E non può accettare questo Noi chiediamo il ripristino dei diritti fondamentali della Costituzione Che sono il diritto al lavoro, il diritto all'assistenza E che non possono essere messi all'angolo in cambio di qualcosa Non esiste come il diritto a curarsi Non esistono né se né ma Sono diritti inalienabili E nessuno, ripeto nessuno Nemmeno il grandissimo Presidente Draghi Può permettere di fare questo E noi, con tutte le sigle In maniera pacifica Dimostreremo il nostro dissenso Diremo la nostra verità Il Presidente del Parlamento Europeo, Davide Sassoli Morto nella notte all'età di 65 anni Sarà ricordato domani dall'Assemblea Legislativa delle Marche Sulla pagina Facebook del Consiglio regionale Il Presidente Dino Latini ha espresso profondo cordoglio Per l'improvvisa scomparsa di Sassoli Volto familiare anche del Tg1 fino al 2009 Quando decise di dedicarsi alla politica Voglio ricordare, ha sottolineato Latini Su alto profilo istituzionale L'impegno profuso per la costruzione Della grande casa comune che è l'Europa Decine i messaggi di cordoglio arrivati da più parti A Pesaro sventola La bandiera europea mezzasta Una notizia che lascia senza parole Ha commentato il Sindaco Matteo Ricci Che ha ricordato commosso la presenza di Sassoli All'inaugurazione della Sonosfera Poco prima della pandemia Pacato, umile e visionario Ha ricordato invece Massimo Seri Il Presidente era stato più volte anche a Fano Urbino in lutto per la morte del giornalista Giuseppe Stulzini 66 anni che si è spento all'ospedale Santa Maria della Misericordia Dove era ricoverato da qualche settimana A causa di problemi respiratori La sua scomparsa hanno detto oggi Il Sindaco Maurizio Gambini E l'assessore allo sport Marianna Vetri Ha scosso il mondo dello sport E tutti coloro che conoscevano Peppe Era un punto di riferimento per gli appassionati della racchetta Era l'anima del tennis e del circolo Che porta al nome di Pian Severo Serietà, impegno, disponibilità e passione Erano gli elementi che caratterizzavano L'impegno quotidiano di Stulzini Impegno con cui seguiva anche il calcio Di cui si occupava scrivendo per varie testate Nel mondo dello sport urbinate Rimane un grande vuoto Le forti raffiche di vento Hanno provocato ieri sera qualche disagio I vigili del fuoco di Fano Sono stati allertati per un albero pericolante E per un palo che rischiava di finire Sulla sede stradale In quest'ultimo caso i pompieri Sono intervenuti alle 21.45 Sulla strada stata alle 16 All'altezza del ponte Metauro Dove per ragioni di sicurezza Gli automobilisti sono stati invitati a tornare indietro L'operazione si è conclusa in poco tempo E senza feriti Ed ora ci spostiamo a Pesaro Per parlare di pandemia Del Green Pass rafforzato Ma anche dell'impatto sul turismo Che il conte Pinoli definisce tragico Per la prima volta nella storia Dell'Alexander Museum Fioccano disdette E l'hotel è completamente vuoto Un disastro annunciato La variante Omicron L'obbligo del Green Pass rafforzato Hanno provocato inevitabili conseguenze Anche per il settore del turismo Già fortemente penalizzato Se da una parte si salvano Le strutture ricettive della montagna Sulla costa Gli affari per gli albergatori Vanno molto peggio Tra positivi, isolati E chi viene escluso Perché non ha e lascia passare Si susseguono disdette E in principio Mancano proprio le prenotazioni Neanche i weekend del Capodanno E dell'Epifania Sono riusciti a risanare Una situazione già di per sé problematica A Pesaro il conte Alessandro Marcucci Pinnoli Titolare di sei alberghi Di cui tre aperti per la stagione invernale Mette in luce la realtà dei fatti Già abbiamo avuto poche prenotazioni E per di più Da lunedì, da ieri Anzi meglio da domenica Abbiamo avuto tantissimi disdette Tanto che La notte del lunedì sera L'Alexandre Moserano Paras Hotel Era vuoto La prima volta in vita mia Da quando c'era l'Alexandre Ma anche con tutti i miei altri alberghi Di avere l'albergo vuoto In effetti Gli altri miei alberghi L'hotel Vittoria C'era qualche camera Se voi qualcuno in più Ma comunque molto poche Ma all'Alexandre Proprio eravamo vuoti La salute prima di tutto Ma le conseguenze per il turismo Sono tragiche Ha proseguito il conte Pinnoli Che per anni ha esercitato Anche la professione di avvocato E di assistente universitario La sua passione per la filosofia Oggi lo porta a riprendere Una celebre citazione Socrate che diceva Che le leggi vanno rispettate Anche quando si reputa Che siano sbagliate Tanto è vero che lui Ha bevuto la cicuta Sapendo che la legge era quella Ma sapendo anche Che era ingiusta E non doveva essere ammazzata Però dopo ci sono le conseguenze L'estate più o meno Speriamo che Le cose vadano meglio Gli stagionali aprono a giugno Da qui a giugno Ci sono tanti mesi Possono anche sperare E speriamo tutti Che le cose vadano meglio Ma adesso d'inverno È una tragedia Perché a peso Sono chiusi quasi tutti Ci sono rimasti aperti Sei o sette Di cui tre i miei E siamo mezzo vuoti Quando un albergo è vuoto Rimette soldi Che fa paura Perché le spese fisse Continuano Gli stipendi I contributi Le tasse Tutto Poi per rifarsi Ci vogliono mesi Per carità Io Non sono di quelli Che stanno sempre a criticare Qualsiasi cosa facciano Perché poi La cosa più facile È criticare E poi fare È un po' diverso Abbiamo sempre visto Che quelli che criticavano Tanto Poi sono arrivati al governo E hanno fatto Tutto il contrario Di quello che avevano detto Quindi tra il dire Il fare c'è di mezzo al mare Non critico Mi adego Però Sono tempi duri Sono stati confermati I contributi Per le bande musicali Da parte della regione Che considera Corsi di orientamento musicale Un patrimonio Dall'alto valore Culturale e artistico Una tradizione marchigiana Consolidata e amata Che va Mantenuta e qualificata Pur in grandi difficoltà Dichiarato l'assessore Al lavoro e formazione Stefano Guzzi Siamo riusciti a trovare I finanziamenti necessari E il mio impegno è totale Nel cercare di reperirli Anche per il prossimo anno L'assemblea legislativa Ha deliberato Un ulteriore stanziamento Di 350 mila euro Per il 2022 E l'esito Delle rendicontazioni Che verranno presentate Quest'anno Consentirà di valutare Un ulteriore stanziamento Per i corsi Dell'anno scolastico 2022-2023 È dedicato a Urbino Il nuovo calendario Della nota azienda Midor Che quest'anno Ha voluto promuovere In Italia e nel mondo La città natale Di Raffaello Dal Palazzo Ducale Al Teatro Sanzio Dalla cattedrale Ai parchi E le piazze Fino alla festa del Duca E a quella storica Dell'Aquilone Midor La nota azienda leader Nella produzione Di igienizzanti E detergenti professionali Quest'anno Ha dedicato Il calendario 2022 Alle bellezze E alla cultura di Urbino Culla del Rinascimento Il progetto È stato presentato ieri Di fianco al Duomo Uno dei tanti simboli Del cocapo luogo di provincia E città natale di Raffaello L'iniziativa è nata Lo scorso anno Grazie a un'idea Del responsabile Della comunicazione Dell'azienda Ivan Calandra Abbiamo voluto riprendere Un qualcosa Che noi realizzavamo Da tanti anni Il classico calendario Che davamo in omaggio A tutti i nostri clienti E rivestirlo Di una grafica nuova Di un'idea nuova Per dar valore A un qualcosa In questo caso Il nostro qualcosa È la provincia di Pesaro Urbino Perché è la sede Dell'azienda Dove noi operiamo Da 40 anni E quindi abbiamo pensato O anche pensato Di valorizzare il territorio Perché è giusto Anche dare qualcosa In cambio al territorio E non solo prendere Quindi siamo partiti L'anno scorso Con Fermignano Il calendario 2021 Con tutte le foto Di Fermignano E quindi visto il successo Abbiamo ampliato Il progetto Per il 2022 Con il comune di Urbino Ci sono anche Delle novità però Sul calendario 2022 Sì Praticamente Il nostro calendario Non è formato Da i cosiddetti 12 mesi Ma è formato Da 24 mesi Sono 12 mesi Perché il calendario Per ogni foglio È diviso In due facciate La prima facciata Abbiamo dato Priorità All'immagine di Urbino Con piccolo spazio Ai numeri Mentre per i vecchi Diciamo utilizzatori O più gli abitui Del calendario cartaceo Si può utilizzare Il calendario Per scrivere Con meno priorità All'immagine Quindi abbiamo Contentato entrambi Il calendario Mido realizzato in collaborazione Con Rotograff È stato stampato In 15.000 copie Da parete E altrettante Da tavolo Verranno distribuite Sempre in modo gratuito A tutti i clienti In Italia e all'estero Sin dal 1982 Ha sottolineato Il socio fondatore Maurizio Dini Abbiamo sempre cercato Di valorizzare Il nostro territorio Noi da quando siamo nati Dal 1982 Abbiamo sempre cercato Di divulgare Il nostro territorio Perché noi viviamo qui Ci stiamo spopolando Ed è giusto Ed è corretto Che facciamo vedere Le nostre bellezze Perché c'è tanto 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 Questa iniziativa Noi ci crediamo molto Perché se tutti quanti Entrassimo In questa mentalità Quando facciamo il calendario Stampiamo Deplici aziendali Delle varie attività Divulgassero I valori E i punti di forza Del nostro territorio Sarebbe un grande business Che costerebbe Praticamente niente Le immagini del calendario Sono state fornite Dal comune di Urbino Che ha appoggiato Sin da subito L'iniziativa A ringraziare l'azienda Ieri è stato direttamente Il primo cittadino Maurizio Gambini Sì senz'altro È un modo per comunicare La nostra città Chiaramente ci fa molto piacere Che un'azienda Come Midoro Abbia scelto La nostra città Andrà in migliaia di copie Dai suoi clienti Che quindi Chiaramente è sempre Un modo per promuovere Per far vedere La nostra città Sperando di poter Aspettare tanta gente Quando questa pandemia Ci lascerà definitivamente Speriamo presto Quindi ecco Siamo soddisfatti Di questa scelta Che ha fatto Questa azienda E anche questa sera Apriamo il grande album Di Fano TV Per fare gli auguri A Veglia Bernacchia Che ieri ha compiuto Cento anni Il sindaco di Fano Ha voluto festeggiare Con lei Questo storico Traguardo Veglia spegne Cento candeline Ha detto Massimo Seri E accarizzata Dalla primura Della sua famiglia E io le ho voluto Fare sentire Tutto l'affetto Della nostra comunità Mi ha raccontato Del suo lavoro di sarta E della passione Per il cucito Oltre al supporto Che ha fornito A suo marito Nella vendita Di elettrodomestici È una donna Proseguito il sindaco Che rappresenta Un esempio prezioso Di valori Che costituiscono Le fondamenta Del nostro sistema Di identità cittadino Alla signora Veglia Ha concluso Il primo cittadino Un abbraccio forte Da tutti noi E ovviamente anche Dallo staff di Fano TV Tra poco Andrà in onda Uno speciale Dedicato al liceo scientifico Torelli di Fano Invece l'informazione Torna domani mattina Alle ore 7 Con Massimo Foghetti E la lettura dei quotidiani Arrivederci